Di ieri la denuncia da parte del manager dell'aspe di Ragusa, Angelo Aliquo, della carenza di personale all'interno dei vari pronto soccorso, anche i blei. La situazione è particolarmente difficile, aveva affermato Aliquo, a causa della carenza dei dirigenti medici nelle discipline di emergenza, soprattutto nelle aspe delle province più piccole. Auspico aveva aggiunto sempre Aliquo che al più presto arrivino forze nuove a riparare gli errori del passato, quando sono stati ridotti i numeri degli ammessi alle scuole di specializzazione pensando che la sanità fosse troppo cara. Un allarme certamente che ha preoccupato cittadini ed esponenti politici. Ad intervenire oggi è il deputato Ibleo Nello Di Pasquale che ricorda quanto accaduto solamente qualche mese fa a Caltagirone. Secondo il deputato del PD l'allarme non è nuovo ed era già nell'area da diverso tempo. Più volte ho denunciato, afferma Di Pasquale, la grave emergenza che incombe sulla sanità regionale. I miei appelli sono rimasti inascoltati, i vertici della sanità regionale hanno rivolto tutte le attenzioni agli ospedali più grandi, con particolare riguardo nell'area etenea, lasciando del tutto sguarniti importanti presidi di periferia. Anche il PD ha più volte denunciato i problemi comuni a tutta l'isola, come ho fatto nello scorso mese di maggio a Caltagirone, partecipando al sit-in della Nursing, il sindacato delle professioni infermieristiche, per protestare contro le gravi criticità dell'Aspi di Catania e più in generale dell'organizzazione sanitaria su tutto il territorio siciliano. La cosa più assurda è che le carenze gestionali e di personale nelle strutture sanitarie arrivano in un momento complicatissimo dal punto di vista dell'assistenza al malato, cioè quello di una grave pandemia e per il quale i governi hanno stanziato ingenti risorse proprio per reperire medici, infermieri e quant'altro possa essere utile per offrire risposte efficienti alle richieste di cura della cittadinanza. Musumeci arrazza, nonostante le risorse disponibili, hanno brillato per immobilismo, aggiunge Di Pasquale, salvo favorire forse alcune realtà politicamente vicine all'area di governo. Tutte questioni, continua il deputato Ibleo, che abbiamo segnalato più volte e sulle quali, come PD, continueremo a dare battaglia sperando di risvegliare il governo regionale dal sonno in cui sembra essere caduto da ormai troppo tempo e il totale fallimento delle politiche, della sessore razza e del governo guidato da Musumeci, continua Di Pasquale, uno stato di cose ormai non più tollerabile ma forse al momento irrisolvibile per le disennate politiche che hanno portato a questo stato di cose. Tutto ciò appare assai più tragico se si pensa agli ingenti fondi che sono stati riservati alla sanità per l'emergenza pandemica. C'è da sperare solo che questo governo e questo assessore non parlino di assunzioni di personale sanitario in vista delle prossime elezioni, sarebbe la conferma della irresponsabile linea che ha denotato per anni solo incapacità e inadeguatezza al ruolo che richiede ben altre figure in settori così delicati della vita pubblica. Grazie a tutti.